Sono sereno e sono contento che dopo 11 anni intanto di lasciare la società in parte a dei ragazzi di Carpi e quindi la presenza sul territorio rimane confermata dal punto di vista della territorialità. E la serenità, insomma, che tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto e direi anche decisamente bene, mi faccio gli applausi da solo e quindi insomma sono contento. Cosa ti rimane di questo lungo periodo, i momenti più belli, i rimpianti? Rimpianti non ne ho di nessun tipo, ricordi bellissimi dalle promozioni in serie B, la promozione in serie A, comunque la prima volta che il Carpi ha giocato a San Siro, insomma tante belle cose che sicuramente rimarranno nel mio cuore e faranno parte della mia vita per sempre. C'è chi dice che Stefano Bonaccini potrebbe rimanere nel calcio, si parla di un accostamento anche al Cesena. C'è qualcosa di vero? Bonaccini e Stefano, in questo momento si prende un attimo di pausa. Sicuramente non è un addio ma sarà un arrivederci perché comunque il calcio è una materia che bene o male mi ha fatto capire che ci posso stare. Quindi per il momento mi prendo una pausa, poi vediamo.